Ciao ragazzi io sono Nikodin e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida oggi andiamo a completare Liverpool vs Real Madrid mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per stare sempre aggiornati con i miei video ci mancano solo due per arrivare ai 120 iscritti mi raccomando ragazzi datemi una mano questa è la mia proposta per la sfida di oggi la potete fare anche voi tranquillamente perché stiamo a 100% di intesa non serve la fedeltà io non vado ad aprire il pacchetto perché li sto mettendo un po' da parte voglio fare un pack opening un po' più grande magari riusciamo a trovare qualcosa però voi fatemi sapere nei commenti se siete stati fortunati se vi ho aiutato a completare questa sfida io spero che sono stato d'aiuto come sempre cerco di fare del mio meglio ok andiamo a ritirare il pacco il bello è che questi sono tutti scambiabili questi pacchi va bene ragazzi questi sono stati i nostri incontri UEFA noi ci vediamo sicuramente con un prossimo vi saluto alla prossima